E' tra i primi 5 migliori in Italia il corso di laurea triennale in servizi giuridici per l'impresa dell'Università d'Annunzio di Chieti. Lo dice la classifica delle migliori università italiane stilata dal Censis, l'Istituto Italiano di Ricerca Socio-Economica che lo colloca al quarto posto nella speciale classifica 2022-2023 riguardante la qualità dell'offerta didattica delle lauree triennali, delle lauree magistrali a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali. Nei primi 5 posti della classifica c'è dunque il corso di laurea triennale presieduto da Maria Luisa Gambini, docente di diritto privato. Il corso del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, diretto da Fabrizio Fornari, viene considerato dal Censis tra le eccellenze d'Italia, sia per la qualità degli insegnamenti, sia per la capacità degli iscritti di mantenere un percorso regolare e completare in tre anni il corso di studi. Il Censis ha inoltre classificato il corso di laurea in servizi giuridici per l'impresa dalla D'Annunzio al secondo posto in Italia per i rapporti internazionali. È stata infatti premiata la significativa e diversificata offerta sia dei servizi agli studenti in termini di sostegno addizionale durante il periodo di studio all'estero, che ha consentito un incremento degli studenti in uscita rispetto al numero degli immatricolati, sia della varietà dei possibili atenei ospitanti. A tutto ciò si è aggiunta la riconosciuta attrattività del corso per gli studenti stranieri, comprovata dalla percentuale di studenti sul totale degli iscritti.